sport calcio il gubbio giocherà la carta di ricorso contro il format a 54 squadre nel frattempo pareggia contro le città di castello in amichevole dopo la beffa della mancata riammissione in lega pro delusione in città intanto slittano domani i gironi della serie d grande successo a sigillo per il raduno mountain bike del monte cucco oltre 400 partecipanti gentili telespettatori a voi una cordiale buona serata benvenuti all'appuntamento informativo dedicato allo sport e apriamo con il calcio e con il gubbio che ieri ha disputato un test amichevole contro il città di castello in società nel frattempo prevale amarezza e delusione dopo la sentenza di secondo grado che ha privato il rosso blu del diritto di riammissione in lega pro ora l'ultimo treno senza molte speranze per ritrovare la terza serie rappresentato dal ricorso presentato dal seregno contro il format a 54 strade e squadre che si discuterà quindi e questo ricorso proprio giovedì 3 settembre facciamo però il punto in questo servizio in un clima surreale con il morale sotto i tacchi e disorientamento misto a rabbia e frustrazione tra i tifosi si è giocata ieri l'amichevole al barbetti tra gubbio e città di castello doveva essere una classica amichevole tra una squadra di categoria superiore il gubbio che affrontava da una settimana dall'inizio del campionato di terza serie una degna avversaria di una categoria inferiore la partita invece ha assunto i contorni di un antipasto di campionato che nella società di via paruccini speravano proprio di non dover giocare tra i tanti dubbi maggio ovviamente sceglie di provare un 11 tipo da schierare nella dura realtà della serie d in porta vaviola conti schiaroli croce buali compongono la linea 4 in difesa malaccari romano fondi e marianeschi compongono il centrocampo dietro l'unico riferimento centrale agisce ferri marini davanti a titone a tenere impegnata la difesa avversaria il città di castello senza dubbio più in palla ma anche più rodato presenta calvarese tra i pali marconi calori e barilari compongono il terzetto centrale locchi ventanni bernicchi donadi e pilleri sono i centrali di centrocampo maiel e missaglia giocano invece davanti prima mezz'ora di marca tifernate con orecchiudo che sugli sviluppi di un corner trova anche il gol al quindicesimo il gubbio prova a reagire con fondi romano calvarese però dice di no entrambi nella seconda frazione magi torna al consueto 4-3-3 e si vede un gubbio più propositivo e messo bene in campo il pari però arriva soltanto nei palpitanti minuti finali con il gubbio in dieci dopo l'espulsione di carole alla mezz'ora al 45esimo infatti è il giovane pucci subentrato a buali a siglare il pareggio la gara con il città di castello è stata anche l'occasione per il ds tifernate calagretti di parlare con il ds pannacci dell'eventuale trasferimento del giovane conti reso quasi impossibile dalla sentenza di secondo grado che ha relegato il rosso blu alla serie d con conti che rientrerà assieme a schieroli badiali e barbacci nel pacchetto dei sicuri fuori quota da ricifrare ora diventa il futuro di malaccari il giocatore svincolato ed avrebbe detto sia il gubbio in caso di riammissione probabile che a questo punto il giocatore si guardi attorno per quanto riguarda invece le residue possibilità di conquistare la lega pro l'ultimo treno passa per la discussione del format a 60 squadre le possibilità sono poche al gubbio non resta che aspettare e sperare in un miracolo visto che anche la giustizia sportiva sia rivelata un fallimento per l'intero sistema calcistico italiano intanto nel pomeriggio altra doccia fredda per le flebili speranze su blu perché il numero uno della figi città vecchio al consiglio federale in svolgimento a milano all'expo ha tolto ogni speranza di rivedere il format di lega pro a 54 squadre se sarà modificato dovrà fargli il coni che discuterà il ricorso del seregno solo giovedì 3 settembre e sempre in serie di slitta domani la composizione attesa per oggi dei gironi del prossimo campionato domani nel pomeriggio saranno prima varati gli otto raggruppamenti del campionato 2015 2016 a seguire saranno pubblicati anche i relativi calendari secondo indiscrezioni le umbre saranno inserite tutti insieme a completare il quadro ben 12 toscane a questo punto è molto probabile lo slittamento del dia del campionato di serie d al 13 settembre intanto nel fine settimana oltre a gubbio e città di castello è stato tempo di amichevoli anche per il città di foligno il gualdo casacastalda i bianco azzurri hanno pareggiato 2 a 2 reti di napolano e candeloni contro la ricanatese dell'umbro magrini proprio nel pomeriggio di oggi falchi hanno ufficializzato il terzino classe 97 che mancava per completare la rosa si tratta di cristian arboleda che arriva in prestito dal perugia tornando al calcio giocato 1 a 1 con tanto di sospensione della partita a causa di anerissi in campo tra gualdo casacastalda e spoleto con reti firmate da magris e villanova nei weekend la società gualdese ha ufficializzato l'innesto del centrocampista classe 91 marco spinosa ex di pomezia treviso e rimini squadre con le quali ha vinto ben quattro campionati e messo insieme un totale di 163 presenze di cui 90 tra i professionisti saliamo in serie b ore frenetiche in casa perugia in vista della chiusura del mercato i biancorossi cercano un centrocampista per completare il reparto i nomi caldi sono quelli di bentivoglio svincolato dal chievo lollo e bianco in forza e carpi san marco attualmente in siriaco nifrosinone e giorgi dell'atalanta sul quale è piombato anche l'ascoli l'impressione è che qualcuno arriverà anche se il ds goretti cerca di piazzare a tutti i costi uno tra felipe gomez e taddei con il primo certamente più richiesto sul quale nelle ultime ore si è fatta viva anche la cremonese del ds giammarioli il perugia guarda anche genova ai giovani per questo è ufficiale l'innesto dell'attaccante daniele viola del genoa intanto ufficiale da oggi ripescaggio di entelle ascoli nel torneo cadetto per le quali è stata lasciata un'ulteriore finestra di mercato per altri 20 giorni parliamo di mountain bike grande successo ieri a sigillo per il terzo raduno mountain bike del monte cucco appuntamento diventato di grande richiamo per gli appassionati del settore oltre 400 iscritti con la follata partenza in piazza martiri il raduno si è svolto con due percorsi il corto di 13 chilometri il lungo di 30 chilometri più impegnativo con uno speciale luna park ricco di single track curati alla perfezione in mezzo al bosco del parco del monte cucco i bikers sono venuti da ogni parte del centro italia eccezione fatta per un atleta venuto addirittura dalla francia molti premi messi a disposizione da aziende locali del settore turistico agroalimentare e non solo per promuovere il territorio in particolare lo straordinario patrimonio paesaggistico e naturalistico rappresentato dal parco del monte cucco bene con questo è tutto per quello che riguarda l'informazione sportiva che tornerà domani sera alla stessa ora io vi ricordo per l'informazione invece tutti gli aggiornamenti il nostro sito internet www.trgmedia.it per l'informazione in diretta l'appuntamento puntuale domani mattina alle 7 30 con la nostra rassegna stampa il tg mattino a voi una cordiale buona serata www.trgmedia.it per l'informazione www.trgmedia.it per l'informazione